com'è sto vinello? il vinello com'è? questo? penso che è migliore che hai bevuto hai visto? sono andato a chiedere un bicchier d'acqua a quel signore ci ha dato una bottigliozza di vino. buonissimo. vuoi un po'? si dammi un po' no dammi un po' dopo ti fermano i carabinieri ti fanno l'alcol testa in bicicletta così ci fanno il test dell'alcol in bicicletta ci ritirano la patente di macchina che non abbiamo? non. eh? la patente di macchina di spagna qual gli diamo di patente? patente degli elicotteri? ritiratosi la patente degli elicotteri. per i carabinieri un grande saluto. no così no che dopo si offendano non lo facciamo vedere non lo facciamolo vedere. facciamo vedere solo un dito facciamo vediamo uno vediamo ecco uno poi voi immaginate l'altro può essere vittoria può essere wow può essere ciao l'altro dito non lo facciamo vedere